È veramente una scelta allucinante in quanto comunque non si può obbligare i nonni a dover gestire sempre i nipoti in una fascia d'oraria di almeno 9-10 ore dove comunque anche i nonni hanno degli impegni e non solo degli impegni ma il discorso del servizio della scuola che quindi può essere un asilo nido o anche una materna certo non si può paragonare al fatto che i nonni possano guardare i nipoti perché pedagogicamente parlando ovviamente l'insegnante non può essere sostituito da una figura di un nonno Fa discutere e non poco l'idea dell'amministrazione comunale di Arezzo di inserire i nonni tra i criteri per accedere ai servizi per l'infanzia Sembra che danno per scontato questo che avendoci i nonni alle spalle allora puoi rimanere in una graduatoria differente da chi invece non ha i nonni quando in realtà non è in questo modo Avere o no i nonni a disposizione potrebbe dunque fare la differenza ma il vice sindaco di Arezzo è assessore alle politiche sociali precisa La domanda è questa se un genitore ha un figlio piccolo e un suo genitore malato o disabile quel peso di cura è lo stesso di un altro genitore che ha un figlio piccolo e un nonno vispo? No Quindi siccome noi non possiamo pensare che i nonni siano soltanto un aiuto ma debbono essere aiutati entra prepotentemente la categoria dei nonni che sono un valore ma che hanno diritto ad essere aiutati e che quindi un genitore ha il dovere e il diritto di prendersi cura del suo figliolo ma anche del suo babbo della sua mamma Di contro le famiglie ma soprattutto i nonni non ci stanno ad essere considerati per forza sostituti di un welfare che secondo loro è deficitario e la questione non si esaurisce solo al criterio dei nonni Mi sembra veramente una cosa fuori dal mondo perché costringere i nonni a occuparsi dei genitori perché altrimenti dei figli, dei nipoti, soprattutto perché se no cambiano le regole per gli asili nido Per le graduatorie mi sembra veramente una cosa fuori... è anche un modo diciamo per far sì che queste persone cioè che i nonni soprattutto siano obbligati tra virgolette a fare le veci di un ente pubblico come l'asilo per i bambini Grazie